Chi ha realizzato le palazzine ha deciso di non seguire il progetto e questa la ragione dietro la tragedia sfiorata lo scorso 6 ottobre a Ortona. Incontrata a Fonte Grande, i pilastri di un fabbricato Ater avevano ceduto nel cuore della notte, costringendo 13 persone che abitavano negli otto appartamenti a fuggire in strada abbandonando lì i propri beni. In realtà probabilmente, certamente le carte hanno restituito dei pilastri realizzati in maniera di forme rispetto ai progetti iniziali, parliamo di vicende ben più vecchie di 40 anni, molti dei protagonisti sono passati a miglior vita quindi non sono nemmeno più ascoltabili imprese, progettisti eccetera. Nei giorni successivi al cedimento dei pilastri furono sgomberate anche altre due palazzine adiacenti, complessivamente sono 24 le famiglie che da oltre sei mesi non mettono piede in casa propria. E' stato brutto, brutto proprio, brutto proprio, purtroppo, aspettiamo, vediamo che ci dice qua, che dice, che dicono, non lo so, vediamo un po' di prendere qualcosa, 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 quasi tutto voglio prendere io. Da allora Ater Chieti, l'ente pubblico che gestisce 2400 alloggi popolari in 27 comuni, ha speso circa 720 mila euro per la sistemazione delle persone sgomberate. Nei prossimi giorni si chiuderà il bando per i lavori di demolizione e ricostruzione che saranno finanziati grazie al super bonus, misura che Ater chiede di mettere a sistema perlomeno per l'edilizia pubblica. Sono operazioni, diciamo, da milioni di euro da finanziare con il decreto 34 del 2020, quindi, diciamo, con i benefici del 110, riguardano, appunto, andremo veloci perché riguardano la demolizione e la ricostruzione. Abbiamo preso, avevamo preso l'impegno con queste famiglie e con noi stessi di restituire 24 alloggi nuovi nel giro di 18 mesi, barra massimo 24 mesi. Oggi intanto il fabbricato instabile è stato puntellato e nei prossimi giorni gli inquilini potranno tornarci a recuperare alcune cose. Per questa vicenda il presidente di Ater chiede, il responsabile tecnico e il legale rappresentante dell'azienda che poco prima del cedimento aveva eseguito lavori di manutenzione, erano stati indagati con l'ipotesi di reato di delitto colposo di danno. Il tutto, però, si concluse con l'archiviazione. Grazie.